Allora c'è un video inquietante che sto appena pubblicando anche nelle stories dove si vede il cecchino del Secret Service in difesa di Trump che tiene già puntato qualcuno su un tetto a poca distanza da Trump. Appena arriva il colpo a Trump il cecchino esplode il colpo verso quell'attentatore. Come si può vedere il cecchino non muove il suo fucile quindi aveva già preso la mira. Perché non ha sparato prima? Perché ha aspettato che arrivasse prima il colpo contro Trump? Il colpo che avrebbe potuto uccidere l'ex presidente degli Stati Uniti d'America? Credo che questa sia l'immagine che inchioda il complotto, l'organizzazione dietro l'attentato a Trump. And you know that's a little bit old, that chart's a couple of months old and if you want to really see something to said, take a look at what happened.